Ciao ragazzi, benvenuti sul canale di Rush, sono qui per mostrarvi le combo a nulla degli Uchihasun, Naruto C.P.O.L.D., Ultimate Ninja Song Generation, con l'aiuto di Nazza, saluta Nazza, che userà il nostro carissimo Sasuke a Minchia, Sasuke a Minchia, inizia a picchiarmi e fammi una combo a nulla, grazie. Che cazzo? L'interferenza di Karin, che ha inchiuso il mio cadavere, attenzione, vabbò. Ok, c'è un'altra signor Nazza? Questa è la combo a nulla del vera lancia mille falchi, adesso c'è quella di Ubito. Arrivo, ok. Vai. No, ho sbagliato, ragazzi. Di qua, di qua, di qua. Allora, di qua. Si consiglia di stare di qua. Arrivo! Ragazzi, questa è la combo a nulla di Ubito Nakamura, o Ubito C.P.O.L.D. per gli amici. Boh, non credo ce ne siano altre, il signor Nazza ce ne sono altre per il signor Ubito? No. Ok ragazzi, questi erano dei due C.P.O.L.D. e Sasuke, adesso passeremo agli altri. Ok ragazzi, ora useremo Itachi, Tsukuyomi e Sasuke e Susanna. Abbiamo saltato Sasuke e Kirin perché tanto è la stessa mossa, cioè è la stessa combo di Sasuke e lancia mille falchi. Infatti salteremo anche Itachi e Spada Totsuka e useremo solo Itachi Tsukuyomi perché è più bella la mossa finale, quindi useremo lui. Giusto Nazza? Giusto Nazza? Grazie mille! Ok ragazzi, adesso passiamo a Masked Man e a Sasuke Piccolo, o PTS come si dite a chiamarlo. Stai con Nazza? Oh, qua. Ok. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.